Panico su un volo della compagnia Asiana Airlines. L'uomo seduto vicino all'uscita ha aperto la porta mentre l'aereo si trovava a circa 200 metri dal suolo in fase di atterraggio e viaggiava a 170 miglia orarie. Il volo è atterrato in sicurezza, ma diverse persone sono state ricoverate in ospedale.